Grazie 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 Przemezimy już Chce 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 Non so, perché le più allergie. E' proprio di sotto. Ciao. Tu a qui, fuori. Siamo chiamati qui, come qui. C'è un po' più verga, però un po' più deve essere utile. Dopo non è che c'è niente con la chalezza? Sì, per me lasagna. Fatevi lasagna. C'è la chalezza? 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 Non c'è la chalezza. Non c'è la chalezza. C'è la chalezza? C'è la chalezza. Adesso ho tornato a tirare. Adesso prendere la chalezza. No, non c'è tu che lo prenderemo. Se lo sbaglio però. Non c'è la chalezza. Non c'è la chalezza. No, non c'è la chalezza. Se lo sbaglio. Con la chalezza di tricteria, e poi lo prendiamo la chalezza. ai murbia murbia e murbia c'è un pochettino c'è un pochettino c'è un pochettino voce c'è da buono c'è un pochettino il pochettino è un pochettino oi dei tricchietti scusa andiamo a vedere la palla a piccina a palla a piccina